Perché bisogna prepararsi alla guerra, sì, perché per emergere su YouTube ci vuole tanta passione, ci vuole tanta dedizione, è una guerra, e noi questa guerra la vinceremo, perché bisogna stare uniti per trionfare su YouTube. Per ogni percanti iscritti bisogna giocarsi, che la guerra per la conquista di YouTube avvenizza, a YouTube può morire. Cioè guarda che devi fare soltanto dei video, non è che fai video. Tu non capisci niente, io alla tua età quando faccio i video su YouTube era diverso. Sì, vabbè, si stava meglio quando si stava peggio, sì, l'euro ci ha rovinato, ne sono più le mezze stagioni, sì, e il nuoto è uno sport completo. Crianzato tu che non mai capisci che sei un nuovo youtuber, non crescerei mai, non c'è modo di crescere su YouTube adesso. Veramente il modo c'è, il modo c'è, e compro. Bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gianni Miau, e oggi faremo un altro video sulle sponsorizzazioni. Siete stati davvero in tantissimi che avete lasciato l'hashtag per farvi sponsorizzare. Ma prima di cominciare, la quest del giorno. A quale youtubers vi ispirate? Se vi ispirate a qualche youtubers per fare i vostri video. Avete qualcuno, qualche idol, qualcuno al quale prendete ispirazione, dal quale appunto prendete spunto delle idee per i vostri video. Fatemelo sapere sotto nei commenti. Mi raccomando, prima di cominciare vi ricordo tutte quante le regole per essere sponsorizzati nel prossimo video. Allora lasciate l'hashtag con scritto ciao Gianni Miau, che mi compare qua in faccia. Aia, 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 dai, via per piacere, via, ok? Lasciate un bel like bro, proprio questo qui che sta comparendo qua adesso. E mi raccomando di iscrivervi al canale e di levare la spunta nelle vostre impostazioni per quanto riguarda la privacy che mantiene nascoste le vostre iscrizioni. Mantiene private le vostre iscrizioni in maniera tale che io posso vedervi tra gli iscritti, posso prendere e fare il copia e incolla del vostro link del vostro canale e poi posso aggiungerlo. Naturalmente tutti questi canali sponsorizzati li troverete in descrizione e li troverete anche nella home page in basso a destra del mio canale dove c'è scritto hai visto questi youtubers. Quindi sarete sponsorizzati a 360 gradi. Un appello davvero che voglio fare a tutti quanti, aiutiamoci tutti quanti a crescere perché YouTube è una community dove tutti quanti ci dobbiamo divertire a fare quello che ci piace. E quello che ci piace ragazzi è fare i video e soprattutto avere tanti iscritti perché vogliamo un sacco di soldi come PewDiePie. Quindi mi raccomando ragazzi supportiamoci tutti quanti rimanendo attivi, iscrivendoci ai canali, iscrivendo nei commenti, insomma aiutiamoci tutti quanti per crescere. Questo è importante. Ok allora detto questo ragazzi ci vediamo dentro il computer, buona visione! Bene ragazzi eccoci qua dentro il pc, possiamo cominciare la sponsorizzazione come vedete questa è la pagina del mio canale, c'è scritto Gianni Miau, sono io. Allora ogni domenica a 10.30 un nuovo video, game blog, sponsorizzazione, challenge e tutorial. Allora prima di cominciare il video mi raccomando vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare l'hashtag con scritto ciao Gianni Miau e un bel like bro. Eccolo qua un bel like bro, ok ragazzi siete tantissimi, guardate quanti siete, una marea, una marea di nuovi youtuber, sei d'accordo Batman? Ok Batman approva. Ok allora siamo pronti a cominciare e iniziamo con il primo canale. Il primo canale è il canale di Next, quindi è il prossimo, cioè il primo, non the first, not the next. Vabbè, è il canale di Next ragazzi, allora io vedo qua praticamente Minecraft everywhere, tantissimo Minecraft, tantissimo Clash of Clans e Sliderio, Minecraft e la Pocket Edition. Quindi allora mi raccomando guardate il suo canale, iscrivetevi a tanti tanti video, qua ne carica anche altri, ne carica. Bene, a tanti tanti video mi raccomando, ah 82 iscritti, road to 100 per Next e poi road to 500, 1000 e poi 5100, 1000 milioni. Quindi mi raccomando iscrivetevi tantissimo al suo canale e seguitelo, supportatelo e come suggerisce lascia un like. Andiamo avanti col prossimo canale, quello di Typic Brother, uno dei due è Zack, che se non sbaglio che mi ha lasciato o me l'ha scritto nei commenti. Allora qua vedo tanto COD credo che sia, io ragazzi scusatemi ma non sono un grandissimo fan dei giochi tipo COD, però va bene, è un Modern Warfare, robe del genere. Però vedo che lui ne ha tanti, ne ha tanti e ho provato a vedere anche un video, il video quello di presentazione. Sono due ragazzi, sono molto bravi, sono i Brothers, allora hanno 25 iscritti ragazzi, soprattutto i canali come questo, bisogna assolutamente supportarli e mi raccomando vanno sponsorizzati e iscrivetevi al loro canale, i Typic Brother. Andiamo avanti con The Got, Le Capre, un canale con 15 iscritti, vedo qui che c'è Clash Royale, ci sono tantissimi, bye guys! Questo canale non ha video, un suggerimento Got, mettere i video su un canale YouTube, così almeno la gente vede i video su YouTube, quindi sul tuo canale vede i video del tuo canale. Ok? Quindi mi raccomando, ok? Mettili comunque, ragazzi iscrivetevi, sproniamolo a mettere i video sul tuo canale e a fare tutte quelle cose che si fanno su YouTube che sono molto 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 importanti. Andiamo avanti col prossimo canale, il canale di iTrollTB. Allora, ha 4 video quanto pare, tra cui uno è il primo appunto quello della presentazione del trailer del canale, vedo Clash of Clans. Ha iniziato un giorno fa appunto il gameplay di Clash of Clans, un gioco che personalmente a me piace tantissimo. Ragazzi ha 11 iscritti, mai come altri bisogna assolutamente mettere, iscrivervi a questo canale. Ma è la stessa copertina di Marcex 2011, 2005? Marceox? È la stessa copertina di un altro canale che ho sponsorizzato? No ragazzi andate a vedere l'altro video delle sponsorizzazioni, vi giuro è uguale, è uguale, è Las Vegas. Mi ha risposto che era Las Vegas questo posto, pensavo che era il Giappone. Vabbè, e comunque iscrivetevi mi raccomando al suo canale, 11 iscritti ha bisogno di crescere, soprattutto questi canali così piccolini devono essere supportati perché devono essere motivati. Ragazzi aiutiamoci tutti quanti, tutti quanti a crescere, YouTube è una community, dobbiamo essere uniti per crescere. Andiamo avanti col prossimo canale, il duo Cugini. Sì, allora qui vedo che ha Call of Duty, vedi anche qua COD, qua c'è GTA 5, gare malate. Sei anche tu un fan di Bistard che scrivi gare malate? Eh, eh, duo Cugini, eh. Allora qua c'è uno speciale di 50 iscritti ragazzi, è a 91. Mi sono iscritto anch'io perché io supporto anch'io tutti quanti questi piccoli youtubers. Ci sono top 10, Rocket League, ma allora segui la Illuminati Crew, eh, 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 il duo Cugini. Quindi c'è un po' di tutto, c'è FIFA 16, c'è GTA 5, insomma c'è di tutto. Quindi iscrivetevi al canale, il duo Cugini. Complimenti per la copertina, bello mi piace con tutti quanti questi joypad, anche il retro. Andiamo avanti con Simo Danis e Nuro, Iaiti, 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 Young Team, sarà che l'eserrobo? Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché sono questi due ragazzi che fanno appunto video. C'è GTA 5, vedo Clash Royale, vedo Call of Duty, Vlog al Mare, Ping Pong, insomma ci sono vlog di tutto e di più. Quindi iscrivetevi al loro canale che hanno bisogno di crescere. Sono 43, rodo tu 50, poi tu 100, 200.000. Simo Dani 01 Ah YouTube Che babbo Sarà YouTube Young Team Allora andiamo avanti Paolo sul tubo 25 iscritti ragazzi Iscrivetevi tantissimo al suo canale Vi dovete iscrivere ragazzi Aiutiamoli questi youtubers Allora qua altre video Speed video come accelerare i video Primo video inizia l'avventura La mia prima intro Insomma tutti questi youtubers Non mi stancherò mai di dirvelo Hanno bisogno di essere supportati Perché assolutamente Mai come altri Devono crescere Sono persone che ci credono Ci stanno credendo E che devono crederci sempre Continua così Bravo Paolo sul tubo Andiamo avanti con Proetto 15 Proetto? Proetto 15 Bella raga in questo canale Questo canale è fatto di serie Tutto quindi restate aggiornati Ok una buona descrizione Lui ha 61 iscritti E vedo che ha COD Poi abbiamo Qua credo che sia FIFA 16 Non lo so Un vlog Shall spawn Video epico Qua abbiamo Minecraft E Insomma questi qua sono I suoi video Mi raccomando Iscrivetevi al suo canale Questo ragazzo Lui che vedete qua Con questa pacciona Qua è lui Iscrivetevi al suo canale Proetto 15 Andiamo avanti Dead Hunters È il prossimo canale A 67 iscritti ragazzi E fa praticamente Battlefield Ah fa Battlefield Non fa COD Ok Quindi iscrivete al suo canale Live Zombie Verso Proetto 15 Ah si si conoscono Ah guarda Che surprise Surprise motherfucker Quindi a quanto pare Ragazzi sono amici Quindi aiutiamoli Tutte e due Infatti sono più o meno Lì come iscritti Mi raccomando Iscrivete quindi Allora al canale Di Dead Hunters Che quanto pare Fa anche collaborazioni Quindi Mi raccomando Fondamentale Mio amico trova Una balena Su GTA Veramente Veramente Ragazzi Cliccate su questo Vedete se è vero O se è un clickbait Iscrivetevi al suo canale Andiamo avanti Il canale di Fake Tutorial Come creare una storia horror Forse Come creare una storia di successo Come ricordare Rimorchiare su Whatsapp Iscritto ricambi con Youtuber pomosi Come diventare un vero Hater Può essere Fake Tutorial Ha già 134 iscritte Ha superato i 100 Quindi spingiamolo verso il 200 Iscrivetevi assolutamente Al suo canale E ripetete perché È davvero davvero Forte 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 Bravo 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 E tra l'altro Una bella idea Questo è un bel format Ragazzi È un bel format Da seguire Fare dei tutorial Fake Quindi Iscrivetevi Iscrivetevi tanto Al suo canale Perché ha avuto Una bella bella idea Bravo fake tutorial Andiamo avanti Con OTG Trademark Perché mi raccomando È un marchio Registrato Non utilizzato Allora OTG Iscrivetevi Ha già 684 Iscritti Ragazzi Road to 1k Quindi Road to 1000 Per lui Quindi aiutiamolo a crescere Supportiamolo ragazzi Ad avere un sacco Un sacco Un sacco Di roba Qua vedo che ci sono Tipo Le review Quindi ps4 pro E ps4 slim Che tra l'altro Io sono totalmente Playstation fan Non sono contro l'xbox Però Se avevi una playstation Tu che stai ascoltando Questo video Saresti stato Una persona migliore Ma va bene Lo stesso Andiamo avanti Quindi a OTG Mi raccomando Ha un po' di tutto Davvero tutto A minecraft FIFA Zombie age Qua GTA 5 Poi cosa c'è Need for speed Insomma Un sacco di gameplay E tante tante Ho incontrato Mattebise Davvero Grande Poi tantissimi Tantissimi Altri Altri Video Allora Top esclusione Playstation 4 Vedo che ha Tanto Sulle console Anche bravo Bravo Perché in tanti lo fanno Ma non in tantissime Perché tutti sono concentrati O su minecraft O su clash of clans Clash royale Sono concentrati Su call of duty Code E tutto quanto Quindi le console Le lasciano tutti quanti Un po' da parte Ma bravo 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 Otc Quaid marks Iscrivetevi Andiamo avanti con Dade brusal Bru Bru Perché brusal Ah perché ho letto Tutorial e gameplay Allora ho detto Dade brusal Allora Dade brusal Mi raccomando Iscrivetevi al suo canale Quindi qua Il video che c'è Pokemon Platino Grande Pokemon Platino Ma come parlo Vabbè Pokemon Platino Minecraft Skywars Lagga troppo Questo gioco Eh sì Lo so Magari se fai tipo Milioni di esplosioni Guardate un po' L'ultimo video ragazzi Che ho messo sul canale Un tutorial Come fare un mega cannone OP A un certo punto Mi ha iniziato a laggare Davvero tutto 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 quanto Comunque iscrivetevi al canale Di Dade brusal Mi raccomando Sempre 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 attivi Andiamo avanti con il prossimo canale È il canale di Johnny X O Johnny X Eh Johnny X Eh clickbait A manetta Pure lui Troll Alla grande Ritornerò Non ho visto questo video Io spero che Johnny X Tu non ti stia ritirando Che non stia chiudendo il canale Perché sei veramente Molto molto bravo Mi raccomando perché È davvero un po' Di tutto Minecraft Vlog Troll Di tutto Prank Training The Violation Altri gameplay Insomma Tutti quanti sparatutto Shooters in prima persona E non solo Polli che cagano TNT Ma che cazzo Vabbè Iscrivetevi al canale di Johnny X Il prossimo canale Che è quello di Super Gamers 56 Che ha più di 56 iscritti Ne ha 184 Quindi mi raccomando Iscrivetevi al suo canale Allora Parliamo un po' Va bene Un draft a caso Parkour GTA 5 Insomma Ha di tutto e di più FI PES Eh oh Uno che gioca a PES Madonna Tutti con FIFA Io a me piace PES Crossbar Challenge Parte 1 No la crossbar challenge Ma parte con PES Grande Insomma Ci ha veramente di tutto Quindi ragazzi Iscrivetevi al suo canale Bene Passiamo allora Al prossimo canale Il canale di Empoleon Ivetal Grafica By Gianlu Gamer Beh ci potrebbe stare anche tipo un link del canale Da qualche parte Allora Il canale di Empoleon Ivetal Che è un pokemon Ha 89 iscritti Quindi mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al suo canale Perché lui fa Clash Royale Scherzo a mio fratello Scossa sul braccio Pure con i taser Ho gemmato e ho trovato la principessa Davvero Che culo Fa anche lui le sponsorizzazioni Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi tantissimo al suo canale Il canale di Empoleon Ivetal Con tanti anni iscritti Deve arrivare a 100 200 milioni Andiamo avanti Con Infinite Gio TV Allora Chubby Bunny Challenge Dico la mia Su youtube Fa cagare Cat mario Si schierare i bruci E' abbastanza da sclero Cat mario Io quindi lo eviterei The sims 3 Happy wheel I lower Insomma fa di tutto E di più Schweder Andrei all'inferno Questo lo voglio vedere Quindi mi raccomando Iscrivete al canale Non so dirvi quanti iscritti Iscritti abbia Perché ne sono nascoste Le sue iscrizioni Iscrivetevi tanto tanto Su canale Supportatele Mi raccomando Perché tutti questi Youtube Vanno Supportati Mia cugina Crea l'acqua colorata Guardate quindi Tutti quanti i suoi video Ok Andiamo al prossimo canale Quello di JustSimo94 Ha 357 iscritti ragazzi Quindi è un road to 500 Mi raccomando Supportiamolo Perché L'ho visto Qua Che cosa Cosa è questo Non lo so Formula 1 Ah forse Fanno il simulator Forse Lo sbaglio Vero Eh JustSimo Black Ops Gameplay E poi tipo Lui ragazzi Lui fa braccio di ferro E l'ultimo sarà Suo zio Perché suo zio A quanto pare È imbattibile È una cosa proprio Potentissima Quindi mi raccomando Iscrivetevi al canale Andiamo avanti Col prossimo Allora Micio Pogicco Mui po Pogicco Micio Pogicco Eeeh No Scribble Nauts Grandissimo Io l'ho stragiocato Questo gioco Mi piaceva tantissimo Iscrivetevi al suo canale Ragazzi Ha 34 iscritti Quindi ha bisogno Di supporto Poi tra l'altro Essendo cugino E micio Io sono Gianni Miao E siamo parenti Siamo Quindi Come fare video Su youtube Quindi ci sono anche Tipo tutorial Su come fare video Awakening 1 Sparatutto Minecraft la serie Nuova postazione Da gaming Insomma Vabbè Fa di tutto Anche lui Quindi mi raccomando Questa serie Portala tantissimo avanti Scribble Nauts Uscita un mese fa Dai Fanne ancora Fanne ancora Che è bellissimo Scribble Nauts Andiamo avanti Con il prossimo canale Il canale di Nico Robin Sì Vi state proprio Credendo che sia Nico Robin Sì È proprio il personaggio Di One Piece Ha aperto un canale Quindi Iscrivetevi Al suo canale Che ha 422 iscritti Ne mancano 78 Per arrivare A Erode 500 Non fare Tra livelli Sero Su Pokemon Go Quindi guarda Consigli di Pokemon Go Crash Royale Non va un canale Niente Non va un canale Ragazzi Non va niente Chiamo Non chiamare Questo numero Non chiamare 16666 Non si fa Quel numero Non si fa E quindi Mi raccomando Iscrivetevi Al Headball Nuova serie Bello questo giochino Andate a Vedere il suo canale E iscrivetevi Assolutamente Andiamo avanti Col prossimo canale Quello di Roby Channel Ovvero Roberta Caggiano 236 iscritti Fa tanti blog Di make up Ok ragazzi Quindi make up Outfit Recensione Shampoo Ho un nuovo piercing Bene My mascara routine Più recensione Quindi ragazzi E' tanto make up artist I miei capelli Sono naturali Yes of course Or maybe not Andate a scoprirlo Guardando i suoi video Il canale Di Roby Channel Grande Mi raccomando Tra l'altro Ha tantissimi video Ragazzi Carica Come se non ci fosse Un domani Quindi ci sta La grande E' parecchio assidua Andiamo avanti Con il prossimo canale Credo che sia L'ultimo L'ultimo è Simone Rivara Ragazzi Allora Sono 5 video Delego movie Video gameplay Intro per Simone Rivara Insomma Carica Anche abbastanza assolutamente Un mese fa Due settimane E settimana scorsa E si presenta A 27 iscritti Ragazzi Mai come altri Questi youtubers Vanno sempre supportati Iscrivetevi al suo canale Perché più vi iscrivete Più queste persone Avranno voglia Di fare video E di crescere E più si iscriveranno Al vostro canale E faranno pubblicità Anche al vostro canale Perché vi ringrazieranno E questo è il metodo Che bisogna attuare Ragazzi Io con questo Ritorno Su la pagina del mio canale Vi ricordo Ancora una volta Io ve lo dico 30 milioni di volte Seguite gli step Per iscrivervi al canale Hashtag Ciao Gianni Miao Iscrivetevi al canale Rimanete Attivi Perché davvero Ci tengo Ci tengo tanto Lasciate un bel Like bro Troverete naturalmente Anche il link In descrizione Di questi youtubers Che sono tantissimi E anche qui In questa parte In questa parte Della mia pagina Quindi una sponsorizzazione A 360 gradi Detto questo ragazzi Io esco dal pc Ci vediamo fuori Ciao Bene ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Mi raccomando Supportate Tutti quanti Gli youtubers Che avete visto Sono dei piccoli youtubers Emergenti E devono crescere Ho bisogno Tutti quanti di crescere Come me ragazzi Io aiuto voi E voi aiutate Ma Aiutiamoci Tutti quanti A crescere Youtube È una community È una piattaforma Multimediale Davvero Pazzesca Dove chiunque Può mettere video E interagire Con le persone Che hanno pubblicato Dei video Quindi In questa maniera Possiamo davvero Aiutarci Tutti quanti Mi raccomando Rispondete All'appunto Nei commenti Se vi ispirate A qualche youtubers A quale youtubers Vi ispirate Ok Per fare i vostri video Mi raccomando Fatemelo sapere Nei commenti Allora ragazzi Verosimilmente Io cercherò Di far uscire Questo Il video Delle sponsorizzazioni Il mercoledì Più o meno Intorno alla 1.30 Intorno alle 13.30 Non ho molto tempo Ragazzi Perché comunque Sto lavorando Questa Tra l'altro Poi è l'ultima settimana Che sto qui In villaggio E dopo di che Tornerò a casa Probabilmente avrò Un po' più di tempo libero Comunque Sappiate che io Inizio a editare Più o meno Il lunedì O il martedì In questo momento È martedì mattina E sono Prestissimo Ragazzi È veramente prestissimo Molto prima che Io inizi a lavorare E Mi metto a editare Più o meno In questi orari Quindi Abbiate pazienza Se magari Alcune volte Non siete Nel video Subito dopo Nelle sponsorizzazioni Comunque Sicuramente Se lasciate l'hashtag Io vi sponsorizzo Se vi iscrivete al canale E se Lasciate un bel like Bro Detto questo Ragazzi Io vi saluto Vi ringrazio Per aver visto Questo video Per partecipato Per avermi supportato Come sempre Ci vediamo Alla prossima Bella ragazzi BOOM BABY BOOM BABY BOOM BABY